Prima dell'udienza generale in Aula Paolo VI, Papa Francesco ha incontrato i giocatori e dirigenti della squadra di calcio tedesca del Borussia Mönchengladbach, che ha un rapporto di amicizia con il Vaticano per i numerosi incontri amichevoli disputati tra le Vecchie Glorie e l'Associazione Sportiva Dipendenti Vaticani. Nel suo saluto ha sottolineato una caratteristica importante della squadra. La Fallenelf si distingue per il fatto di essere sempre una squadra a misura d'uomo, per così dire, una squadra che favorisce le famiglie. È bello vedere come le famiglie popolano il vostro Borussia Park e come vengono svolti vari programmi iniziativi, sportivi ed educativi per promuovere i giovani, in modo particolare quelli svantaggiati. Mi invito a continuare a impegnarvi come atleti del bene e della pace, di cui il mondo attuale ne ha tanto bisogno.